bella a tutti i miei slimes qui al bentornati nel mio canale eccoci qui con un nuovo video e oggi andiamo a parlare di album americani che abbiamo buone possibilità di ascoltare in questo 2022 ho selezionato sette progetti di cui io in primi sarei curioso e soprattutto vorrei ascoltare durante quest'anno ma prima di scoprirli vi invito a lasciare già da subito un mi piace e se non lo siete mi raccomando iscrivetevi al canale partiamo dal primo uno abbastanza importante e sto parlando di utopia di travis scott sarò sincero con voi mi aspettavo di ascoltare questo album già dall'anno scorso ci avviciniamo ormai al quarto anno dall'uscita di astroworld e direi che siamo tutti curiosi di ascoltare nuova musica di travis sappiamo tutti quello che è successo a novembre e sto parlando della tragedia all'astroworld festival evento che poi potrebbe essere una delle tante cause che ha influito nel ritardare ulteriormente l'uscita del disco nel caso in cui non sapeste di cosa sto parlando vi lascio il link in descrizione del video che ci ho fatto a riguardo in cui spiego in maniera molto dettagliata e ricostruisco un po' la dinamica di tutto quello che è successo in realtà annuncio anche di voler droppare un tape prima dell'album chiamato distopia distopia come lo volete insomma pronunciare e gli ultimi due singoli usciti escape lane e mafia si pensa possano farne parte io credo che quest'anno abbiamo buone possibilità di ascoltare un nuovo progetto di travis che sia questo tape un po' come antipasto dell'album o che sia proprio utopia stesso ripeto è passato ormai davvero tanto tempo da astroworld e direi che siamo tutti curiosi ma soprattutto pronti per nuova musica di la flame passiamo ad un altro big della scena americana kendrick lamar uscirà un suo progetto nel 2022 ad aprile sono cinque anni dall'uscita di damn quello che a tutti gli effetti è il suo ultimo lavoro solista disco che poi a livello di vendite ha fatto dei numeri pazzeschi 603 mila copie vendute al debutto addirittura un disco d'oro qui in italia che non è affatto scontato e album dell'anno ai gremi awards insomma è stato il miglior album mai rilasciato da kendrick quantomeno dal punto di vista commerciale nel 2018 poi ha lavorato a black panther di album la colonna sonora dell'omonimo film ma da qui in poi saranno veramente pochi i featuring ma in generale anche i singoli rilasciati dall'artista stesso una delle ultime collaborazioni è proprio family ties con suo cugino baby kim traccia estratta da melodic blue dove c'è un'altra collaborazione tra i due range brothers per il resto si sa davvero poco su un suo ipotetico un nuovo progetto l'unica certezza è che ripeto ci avviciniamo a quasi cinque anni dall'uscita dell'ultimo è anche in questo caso lo stiamo aspettando un po tutti anche perché in realtà si pensava potesse uscire già nel 2021 passiamo da got a got e di conseguenza non possiamo non parlare di don da due e cani e west sto registrando questo video il 22 febbraio data in cui effettivamente sarebbe dovuto uscire ma indovinate un po alla fine non è uscito sinceramente non ci speravo troppo perché l'ultima volta che cani aveva annunciato un progetto con tanto di data si trattava di yandy e io non vorrei che facesse la stessa fine questo album fatto sta che in tema cani e west in queste settimane è successo di tutto e di più ha mandato affanculo no vabbè mandato affanculo no però ha dato un po di spettacolo con kim con soprattutto il suo nuovo ragazzo pitt davidson e con le sue label con i suoi manager il succo di tutto è che don da due con ogni probabilità non verrà caricato su nessuna piattaforma di streaming musicale ma lo si potrà ascoltare o direttamente dallo stand player che sarebbe quella piccola cassa che proprio ha creato cani e west dove puoi fare una serie di effetti di mix insomma una cosa molto figa se poi me lo chiedete ma per chi invece non lo volesse comprare lo si può comunque ascoltare dal sito proprio dal dello stand player o comunque da un link che verrà creato sempre secondo le parole di cani una novità interessante e inaspettata direi è che il produttore esecutivo dell'album è future e io sono super curioso perché mi conoscete sono suo fanboy ma soprattutto voglio vedere poi in che modo ha in un certo senso influenzato proprio la stesura del disco in che modo ha influenzato anche cani insomma sono veramente curioso di sapere cosa ne è uscito fuori passiamo al prossimo progetto secondo me quest'anno ci sono anche buone probabilità di ascoltare un nuovo album di lil baby my turn è uscito nel 2020 con tanto di deluxe edition e anche in questo caso si può considerare il miglior album di lil baby dal punto di vista commerciale certificato triplo disco di platino e album più streamato del 2020 in america non che poi nel 2021 sia stato fermo perché ha collaborato con lil dark per il loro the voice of the hero joint album uscito a giugno ma per il resto giusto qualche singolo diversi featuring e niente di che proprio per questo ritengo che quest'anno ci sono buone possibilità di ascoltare un suo album anche perché se poi andiamo a vedere negli anni precedenti ci ha sempre più o meno abituato a un progetto all'anno anche di più in certi casi insomma non si sa su cosa sta lavorando abbiamo poche notizie a riguardo ma secondo me quest'anno qualcosa qualcosa la farà uscire passiamo ad un altro big signore e signori 21 savage di lui già vi dico da subito che sono veramente sicuro che uscirà qualcosa perché è già diverso tempo sono già diversi mesi che da qualche segnale è tutto cominciato con un tweet in cui lasciava intuire che il suo prossimo progetto potrebbe avere influenze r&b di certo lo conosciamo per un sound molto più hard molto più trap ma pezzi come rip love giusto per citarne qualcuno ci hanno dimostrato che anche su una wave un po più chill 21 sa sicuramente il fatto suo sempre su twitter nei mesi successivi ha continuato a lasciare indizi frasi del tipo non droppo da tanto insomma tutte le cose portano ad una risposta 21 savage quest'anno tornerà con un album anche perché se vegemo 2 è uscito nel 2020 certamente non è passato così tanto tempo ma direi che potrebbe aprirsi un nuovo capitolo nella sua vita un altro di cui aspettiamo l'album in questo caso già da un paio di anni è sicuramente favi foreign blow upato nel 2020 insieme a pop a differenza sua è cominciato ad andare viral qualche mese più tardi è proprio da allora che aspettiamo il suo primo progetto ufficiale nel 2021 il suo nome è cominciato a diventare sempre più pesante sia per via dei singoli ma soprattutto delle collaborazioni alcune anche di alto calibro basta citare off the grid con Kanye West che è anche una delle migliori canzoni di donda e una cosa certa che possiamo dire sul suo album è che il produttore esecutivo sarà proprio Kanye West confermato dallo stesso fabi sui suoi social già questo a mio avviso basta per avere live a mille però teniamo anche conto dell'attenzione maniacale che ha Kanye West per ogni minimo dettaglio delle robe a cui lavora da una parte è un buonissimo auspicio per quanto riguarda la qualità del progetto ma dall'altra c'è il rischio anche che i tempi d'attesa potrebbero allungarsi a mio avviso comunque è questo l'anno buono perché in realtà già se ne parla da un po molti se lo aspettavano me compreso nel 2021 insomma secondo me dobbiamo avere solo un altro po di pazienza l'ultimo artista di questa lista ma non per importanza è Lil Uzi Vert dopo un 2020 ricco di musica praticamente due album diversi singoli moltissime collaborazioni che poi bene o male hanno continuato ad esserci anche nel 2021 aveva annunciato un lavoro intitolato Pink Tape di regola lo avremmo dovuto ascoltare già durante l'anno scorso ma anche in questo caso conosciamo Uzi e quando annuncia qualcosa non si sa mai se crederli o meno tra l'altro proprio recentemente accennato in un'intervista la volontà di droppare 1629 che per i più vecchi che sicuramente si ricorderanno è il nome di un joint tape tra Lil Uzi Vert e Playboy Carti annunciato pensate un po' nel 2017 mortacci loro ora anche in questo caso va bene avere hype però ripeto è un progetto annunciato addirittura cinque anni fa non è mai uscito non è detto che debba uscire però personalmente mi basterebbe ascoltare un album che sia il pink tape oppure questo album qua anzi magari questo cioè io sono fan di tutti e due quindi ascoltare 1629 quest'anno mi farebbe volare dalla sedia insomma vediamo come le cose si evolvono e speriamo bene quali di questi sette progetti siete più curiosi di ascoltare o magari ce n'è qualcuno che non ho menzionato per cui siete in hype scrivetelo qua sotto per un commento come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace se non lo siete mi raccomando iscrivetevi al canale e se lo siete già attivate la campanellina così non vi perdete ogni video che carico qui sotto in descrizione trovate le mie playlist soprattutto del rap americano e del rap italiano ma anche tante altre il link ai miei social instagram facebook e il gruppo telegram mi raccomando seguitemi un po' ovunque condividete questo video con quanta più gente volete potete noi ci vediamo ad un prossimo slat ciao 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 ciao